Napoli scende in piazza per sostenere la comunità cinese che in alcune città italiane ha subito episodi di discriminazione causati dall'apprensione per le notizie sul coronavirus. Questo pomeriggio un flash mob in piazza municipio che ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris con gli assessori alla salute, alla cultura e alla scuola del comune e di una delegazione della comunità cinese a Napoli. Napoli non gira le spalle e lo sguardo a chi sta in difficoltà. Solidarietà assoluta alla comunità cinese di Napoli, alla comunità cinese italiana e al popolo cinese che in Cina sta vivendo un momento davvero molto 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 difficile. E poi no al razzismo sanitario perché è una cosa indegna, una cosa essere tutti quanti attenti nel mondo perché è giusto essere preoccupati e essere attenti, altra cosa è il panico, la follia, il razzismo e la discriminazione. Quando un popolo è in difficoltà se un altro popolo ha un grande cuore non si gira all'altra parte. Siccome Napoli e Napoletane hanno un grande cuore noi qui ci sentiamo tutti uguali e quindi questo gesto di grande amicizia e solidarietà deve unire tutto il popolo napoletano. In questo modo noi ci distinguiamo da chi non usa il cervello e il cuore in questi casi che sono così difficili. Pensiamo a chi sta soffrendo veramente come in Cina e quindi noi dobbiamo mostrare tutta la nostra vicinanza, tutta la nostra solidarietà e poi affidarci alla comunità scientifica, alle istituzioni internazionali e nazionali perché questo male venga isolato e debellato e sconfitto al più presto. Ancora una volta ci accoglie con il cuore aperto dicendo no alla disperazione, sì all'accoglienza. Perciò io dico qui grazie Napoli, forza Napoli! Grazie, bravo!